Pronto? Fabri, oh, ciao. Eh, sì, 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 è appena finita la partita. Sì, 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 il Pescara è salvo, sì. Abbiamo pareggiato a Venezia 0-0, sì. Sì, 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 il Parma è andato in Serie A, il Parma, sì. Sì, perché poi il Frosinone si è fatto raggiungere al novantesimo dal Foggia, hanno fatto come l'anno scorso. Evidentemente a Frosinone sono abbonati a fare i play-off, sì. Sì, il Palermo ha vinto con la Serenitana, ha finito quarto, sì, sì. Sì, anche il Bari, il Bari e il Cittadella stanno, sì. Sì, sì. Sì, play-off in pratica Frosinone, Palermo, Venezia, Bari, Cittadella e Perugia, sì. Ah, ho capito. Ho capito, sì, sì, sì. No, ma alla fine poi il Cesena ha fatto 50 punti perché ha vinto anche l'ultima ieri e quindi si è salvato. Sì, sì, pure la Cremonese era salva. L'Avellino, L'Avellino, L'Avellino è riuscito a vincere. Sì, 2-1. Sì, stava perdendo 1-0, poi a Terni, poi ha ribaltato il risultato della partita e finita 2-1 per L'Avellino. Sì, sì. Sì, come che è il retrocesso? È il retrocesso il Novara che ha perso in casa con Lentella e quindi sono retrocessi Ternara, Provercelli e Novara. Eh. No, ma che cosa vuoi sapere? Ah, ho capito. Chi fa i play-out? Eh come? Non hai capito chi fa i play-out? Oh, scusami, se Lentella ha vinto a Novara, il Pescara ha pareggiato a Venezia, Lavellino ha vinto a Terni, il Cesena ha vinto con la Cremonese. Sì. Eh, che c'è ormai? L'Ascoli! Sì, i pascolari vanno a fare i play-out. Eh, è una sorpresa perché loro oramai si sentivano... erano salvi, no? Sì, sì, erano muti qui a Pescara, avevano vinto sia sugli spalti e anche sul campo, no? Ti ricordi? Quella partita... Eh, la settimana scorsa, quella che è finita con l'espulsione di coda per quel fallo a centro campo. Eh, sì, ci ho parlato con Andrea, ci ho parlato, eh, Andrea è un giocatore che ha due coglioni così, sì, sì, sì. Sì, ma poi questa settimana ho parlato con tutta la squadra, io li ho caricati a dovere, gli ho detto che a Venezia dovevano tirare fuori gli artigli e così hanno fatto. Ti dispiace per l'Ascoli? Che cazzo ce ne frega a noi di Pescara dell'Ascoli? Ma è bello, no? Che vanno a fare i play-out. Ma sono muti qua a Pescara, hanno vinto quella partita con quell'espulsione fasulla per quel fallo di coda che poi aveva preso pure il braccio, là, di quel deficiente di Monachello. E mica l'aveva preso in faccia. Eh, ma ti ricordi che ha fatto un'entrata scomposta a centro campo, sì. Però alla fine mica era un'espulsione netta, cioè, l'aveva preso sul braccio e quello si stava a coprire il volto come se l'aveva preso in faccia, capito? E l'arbitro l'aveva cacciato perché aveva detto a coda che l'aveva preso in faccia. Pensa un po' tu che arbitri ci stanno in B. Eh, sì, sì, sì. Eh, ma lo sai cosa dico sempre io? Chi di spada ferisce, di spada perisce. Cioè, il pascolano è venuto qui a Pescara a rompere i coglioni, a vincere 1-0, a farsi l'ufregno a fine partita. Volevate vincere, l'avete preso nel culo, pescare se vaffanculo, pescare se vaffanculo. E mo' com'ha finito il campionato? Eh, lo pescare, noi siamo ancora in serie B. L'ascoli si deve vedere. Tu lo sai, tu lo sai per chi tifo io. Eh, sì. Io tifo per... È normale, scusami. Cioè, ma secondo te io ti posso tifare mai ascoli? No, ma no, mamma mia, ma per favore. Io tifo in tela, sì, è in tela. Ma come perché, scusami. Fabri, ma che cazzo stai a dire? Eh. No, io tifo in tela perché lo sai che io sono amico di Sansovini. Eh, e Sansovini si è fatto pure sei mesi lì in tela. No, prima di tornare qua a pescare. Eh. E quindi tifo in tela. Bravo. Va bene. Fabri, guarda, mo' ti lascio perché stavo un attimo registrando un video qui per i miei youtubers. Sì, sì, sì. No, per i miei amici qui che sono iscritti al mio canale. Stavo facendo un video. Volevo spiegare un po' loro come era finito il campionato di Serie B, sì. Eh. Va bene, dai. Dai. Dai che la settimana prossima ci tiriamo questa partita. Ascoli è in tela, sì. Forza Virtus è in tela, sempre. Va bene. Dai. Un saluto. Ciao Fabri. A presto. Un abbraccio. Ti aspetto a Pescara. Ciao. Ciao, ciao. Signori, bentornati qui sul mio canale. Avete visto come finì il campionato? Eramo venuti qui la settimana scorsa. Avete visto il gol di Bianchi, Pescarese e Zingaro, Nomade, dovevate vincere e invece l'avete preso nel culo, papapapà. Ma lo sapete cos'è questo? Ve lo faccio vedere perché non ci credete. Questo è il famoso pantaloncino di Andrea Coda. È ancora sporco di terra, peccato che non c'è il sangue di Monachello, lo stavo aspettando. E il famoso pantaloncino di Andrea Coda, di Pescara Ascoli, il grande Andrea, me l'ha dato il giorno dopo che l'ho visto. E mi ha donato questo pantaloncino. Io l'ho ringraziato con tutto il mio cuore perché poi sapevo che alla fine ai pascolani gli si sarebbe ritorto contro quello che è successo. E adesso io... Questa è bella, eh. Non ve l'aspettavate questa. Questa non ve l'aspettavate proprio. Tifo è in tela. Forza Virtus è in tela. Noi confidiamo in te perché vuole marmannassi i cazzo di pasculani in serie C. Oh, forza è in tela. Oh, non vi scandalizzate perché c'ho la maglia dell'entella, eh. Io c'ho la maglia dell'entella e la maglia sempre dell'amico mio, Sansovini. Vedete? Eccola qua. Firmata. Questa è una maglia della mia collezione. Per chi non lo sa, sulla pagina Facebook c'è la mia pagina, Museo Marco Sansovini. C'è tutta la mia collezione di maglie. Veramente ci mancano una quindicina di maglie, devo aggiungere, che ho preso in questi ultimi due anni, che non l'ho messo. Comunque tutte le maglie di Sansovini. Quindi, ragazzi, dopo questa bella analisi dell'ultima giornata, dove siamo contentissimi che l'entella è riuscita ad andare ai play-out contro l'Ascoli, adesso noi ci tifiamo bene bene, ci tifiamo l'entella che vince con l'Ascoli, così il campionato finisce in bellezza. Bene, ora vi saluto, mi raccomando, lasciate like se il video vi è piaciuto, sicuro, perché so che vi piacciono. Commentate, fatemi sapere il vostro parere, magari scrivetemi qui sotto nei commenti il pronostico per i vostri play-off e per quanto riguarda i play-out. Mi raccomando, condividete il link, condividete il mio video, o iscrivetevi al canale. Se non l'hai fatto, iscriviti, iscriviti al canale, più iscritti, più video, più divertimento insieme. Quindi, io vi saluto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, sempre, forza Pescara, e un saluto a tutti i gufi che volevano il Pescara in serie C. Ciao merda, alla prossima.